Richiesta di assistenza a tutte le unità in zona A tutte le unità, agente all'inseguimento di progettivi alla G-13 1 Lincoln 6 all'inseguimento Grazie a tutti Ho perso il contatto con il soggetto, un po' non lo vede Roger, le unità saranno avverdite Sospetto avvistato, codice 3 Sospetto avvistato, codice 3 Centrale ho un altro sospetto in vista all'inseguimento di più bersagli Servono posti di blocco per fermare il sospetto Attenzione, tentiamo di fermarlo Occhio al display per le posizioni dei blocchi stradali Il sospetto ha evitato il blocco stradale Non fatelo scappare Avvertiti i riporti in cui le cose si muovono rapidamente Passo Richiedo assistenza, sto perdendo il sospetto Mi servono tutte le unità possibili Passo A tutte le unità in codice 3 Sospetto perso di vista Avvisate in caso di contatto A tutte le unità in codice 3 Terminato Tornate di battuglia Tornate di battaglia